1, 2, 3 Magnaforte! È stato un successo che è andato oltre le più rose aspettative, Magnaforte, Cibo Belfortese in piazza. Il centro storico, già dal tardo pomeriggio di sabato 9 luglio, ha accolto centinaia di persone che hanno voluto prendere parte a questa prima edizione, che aveva come principale obiettivo quello di valorizzare le eccellenze produttive, culturali, sportive ed enogastronomiche presenti in paese. Organizzato dal comune di Belforte del Chianti, in collaborazione con l'Unione Montana-Montiazzurri e la Pro Belforte, Magnaforte è nato anche per condividere momenti dedicati alla socialità e alla spensieratezza, oltre che per promuovere la possibilità di creare una sinergia tra i produttori locali. Anche in questo caso l'obiettivo è stato raggiunto. Alcuni imprenditori hanno colto questa occasione per lavorare insieme e divenire fornitori gli uni degli altri, in uno scambio di saperi e modalità lavorative che, oltre a rinsaldare il senso di appartenenza, potrà contribuire alla crescita economica delle loro attività. Magnaforte, grazie alla consapevolezza attesa di enfatizzare l'identità territoriale, vuole essere dunque l'inizio di un percorso da portare avanti nel tempo, utile all'intero paese. Molto frequentata anche la piazza in cui sono state presenti le diverse associazioni e alcune realtà economiche storiche della cittadina. Chi ha intervenuto alla manifestazione ha avuto anche l'occasione di capire come si può ottenere un buon caffè. Ha potuto creare piccoli oggetti grazie alla manualità, ma ha anche provato a tirare con l'arco e ha vissuto l'emozione di stare al centro di un vero set fotografico. Insomma, dalle forme esperienziali a quelle degustative, fino al divertimento, grazie al DJ set, e all'apprezzato tributo a Rino Gaetano, proposto dai villi maschi, questa idea per il primo anno ha funzionato. Grazie a tutti.